15 marzo, oggi parliamo di una santa della carità, anzi della prima collaboratrice del santo della carità per eccellenza di San Vincenzo dei Paoli. Stiamo parlando di Santa Luisa di Mariac. Insieme San Vincenzo dei Paoli e Santa Luisa di Mariac fondarono le Figlie della Carità, il 25 di marzo 1642. Le Figlie della Carità sono tuttora la congregazione femminile più numerosa, circa 21.000 sono in tutto il mondo, non solo ma sono conosciute nell'immaginario collettivo per quel cappellone che portavano fino alla riforma liturgica, finale riforme del Concilio Vaticano II. Diciamo subito che adesso i vestiti delle suore sono molto più semplici per motivi pratici e anche simili, ma prima erano molto più specifici, quasi si poteva individuare attraverso la foggia del vestito la congregazione a cui la suora apparteneva. Diciamolo pure che è vero, i vestiti delle suore, anche nelle congregazioni maschili un po' di meno, ma le congregazioni femminili hanno recuperato in praticità, ma forse hanno perso qualcosa in bellezza. Anche la bellezza è faticosa molte volte, ma è necessaria, perché mi fa sempre riflettere il fatto che nonostante la maggior parte dei preti oramai non indossi la talare, purtroppo, a cominciare da me, e nonostante che le suore attualmente si assomiglino tutte, nell'immaginario collettivo, nelle televisioni, nelle immagini di preti e di suore, c'è bisogno di rappresentarli con la talare oppure di caratterizzarle le suore con questo cappellone. Questo dovrebbe farci un po' riflettere su che cosa voglia dire riformare, adattarsi al tempo. Magari ciò che è bello, ecco, non dovremmo toglierlo. Squadra che vince non si cambia. L'immagine è anche importante, no? Non è il vestito che fa il monaco, ma un buon monaco porta il vestito, la veste. Bene, Luisa de Marillac nasce nel 1591 in circostanze misteriose. Prima avvenivano queste cose. Dunque viene denunciata come, registrata meglio, come figlia illegittima da un certo Luigi di Marillac, appartenente a una famiglia ricca e nobile, ma da pochi decenni era diventata nobile. Alcuni dicono che sia lui il padre di questa bambina. Altri dicono che egli si sia assunto la paternità per salvare qualche suo fratello o parente, che magari non avrebbe potuto avere figli, ecco, dallo scandalo. In ogni modo, ecco, viene registrata come figlia illegittima di questo Luigi de Marillac e le viene data anche una dote in Danaro, per cui fin da 5-6 anni viene custodita in un monastero di Domenicane. In questo monastero di Domenicane conoscerà la spiritualità di Santa Caterina da Siena, imparerà le buone maniere, imparerà la preghiera, la scrittura, il canto, diverrà insomma una vera signora. A un certo punto la famiglia era originaria del massiccio centrale della Francia, delle parti interne della Francia, dell'Orvegne, si chiama così quella regione. Ebbene, a un certo punto lei manifesta il desiderio di consacrarsi, ma le logiche di famiglia quasi la costringono a sposare un certo Antoine Legras. E questo Antoine Legras era uno degli scudieri della regina madre, Maria dei Medici, la madre di Luigi XIII, del re Luigi XIII. E allora tutta la fatica del matrimonio, un matrimonio non voluto, ma la fedeltà e la condiscendenza ai propri doveri coniugali. Entra poi Luisa nel dibattito di quel periodo molto fervoroso sul piano spirituale, che era un periodo che seguiva le guerre di religione in Francia, di rinascita cattolica. Quindi conosce il padre de Periul, futuro cardinale, conosce un certo Diouma, che è omonimo del futuro scrittore Diouma, l'autore dei Tre Moschettieri, e anche egli era scrittore e che diventa suo padre spirituale. Tramite altre conoscenze conosce anche Francesco di Sales e poi arriva a conoscere finalmente Vincenzo dei Paoli. Ecco, San Vincenzo dei Paoli la dirige spiritualmente, lei diventa vedova e quando il suo unico figlio diventa sacerdote, Michel Legras de Marillac, e allora lei insieme a San Vincenzo dei Paoli, dopo alcune esperienze di carità, dopo la vedomanza, dopo un'esperienza pentecostale in cui nella Pentecoste del 1624 vede il suo futuro come fondatrice dopo la morte del marito che presagisce essere imminente, 25 marzo 1642 lei fonda le figlie della Carità, che è un istituto rivoluzionario per il tempo perché ogni anno dovevano rinnovarsi i voti e perché non era tenuta questa nuova congregazione alla clausura stretta. Non solo, ma San Vincenzo addirittura diceva che se mentre nella preghiera arrivava la notizia che c'era bisogno delle suore per un'opera di carità, loro dovevano lasciare la preghiera e portare la medicina per dire perché chi lascia Dio per Dio non lascia Dio. Questa era la massima di San Vincenzo. Luisa de Marillac ebbe anche grazie mistiche notevoli come lo sposalizio mistico, fu una donna di grandi doni mistici e morì qualche mese prima di San Vincenzo dei Paoli nel 1660. Santa Luisa de Marillac prega per noi.